Ciao a tutti, oggi prepareremo la frittata di spinaci al forno. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono spinaci lessati, scalogno, olio, uova, ricotta, parmigiano grattugiato, sale e pepe. Diamo il via alla ricetta. Iniziare nella ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno e lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Aggiungere gli spinaci ed azioniamo il bimbi per 4 minuti, 100 gradi, velocità 3. mettere da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, aggiungere la ricotta, le uova, il sale e il pepe. Ed azioniamo il bimbi per 2 minuti a velocità 4. aggiungere gli spinaci. Facciamo amalgamare per 10 secondi a velocità 4. Il composto è pronto. Versare in una teglia rivestita con carta da forno da 28 x 20 cm. spolverizzare con il parmigiano grattugiato. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per 20-30 minuti circa. La frittata è cotta. Lasciamola intiepidire prima di servire. frittata di spinaci al forno. Grazie e alla prossima ricetta! frittata di spinaci al forno. Grazie a tutti! Buon appetito! Buon appetito! Grazie a tutti.